Tenga, assaggi uno dei miei cocomeri, Steven. Non lo so, è un po' strano vedersi, ma... Ok, accetterò di farmi corrompere. Ehi là! Ciao, Steven! Che cosa stai combinando? Porto avanti un'attività collaterale. Oh, davvero? È grandioso! Come hai ottenuto dei cocomeri così belli? Diciamo che c'è un tantino di Steven in ognuno di loro. Ti sei inventato un bello slogan. Allora, quanto costa uno? Quanto costa? Veramente volevo regalartelo, Sedi. Andiamo, insisto. Mi piace sostenere il commercio locale. Wow! Che cosa succede qui? Ciao, Ronaldo! Non badare a me. Sto facendo un servizio per il mio blog su questi tuoi strani cocomeri. Date un'occhiata a questi strani cocomeri. Ragazzi, all'ingresso del parco giochi è pazzeschi. Steven, non dovresti far aspettare così i tuoi clienti. Ti lascio cinque dollari e ne prendo uno, ok? Sedi, aspetta! Vuoi dire che li vendi solo a cinque dollari? Ehi, gente, correte! Venite a prendere un cocomero Steven! Li sta praticamente regalando! Presto, prima che vadano esauriti! E un altro, e un altro, e un altro, e un altro. Forte! Sono cento banconote tonde. Oh, ciao, Cipollo! Cioè, vuoi i miei soldi? Oh, scusa tanto se ho frainteso. Purtroppo ho esaurito tutti i cocomeri. Spiacente, Cipollo. Cocomerino non è in vendita. Cipollo! Ridammi subito il mio bambicocomero! Oh, il mio cocomerino! Mio bene prezioso! Credevo che non ti avrei rivisto mai più. Tu sei... Sei vivo! Non dovrei essere così sorpreso in fondo. Oh, mamma. Allora sono vivi anche gli altri, giusto?